Comunque direttore, come dicevi tu prima, l'onorevole Lupi, il suo nome era stato fatto anche, era un po' il nome che ha trovato un po' la convergenza di Forza Italia per guidare questa tornata elettorale. Invece partiamo da questo 30%. Partiamo dal risultato delle elezioni amministrative. Ci stiamo presi una bella scoppola ed è inutile negarlo. Ce lo siamo presi sotto i due punti di vista. La prima, per il fatto dei risultati, andiamo al ballottaggio, sì, e speriamo anche di giocarcela a Torino e a Roma, ma nelle altre tre grandi città perdiamo il primo turno. Ed è oggettivo, che non abbiamo saputo mettere in grado, una proposta che abbia ritornato a far votare gli elettori di centrodestra. A Milano tutti i sondaggi davano l'elettorato di centrodestra tra il 44 e il 48%. Ma anche il dato, l'altra scopola, è il 47% dei partecipanti al voto a Milano, piuttosto che il grande astessionismo nelle grandi città. La responsabilità credo che sia della politica, non dei cittadini, perché ricordo, ai referendum, piuttosto che alle ultime elezioni politiche, non è vero che i cittadini non hanno votato. Cioè, quando vedono in gioco una proposta politica interessante, un'alternativa seria e credibile di governo su cui scegliere, o decisioni, i cittadini vanno a votare. In questo caso, penso a Milano, oggettivamente i nostri elettori, adesso vedremo i dati, non sono andati a votare o comunque pensavano che la partita fosse già persa. Non è colpa assolutamente di Bernardo, a cui va la nostra gratitudine per la sua disponibilità, ma non è possibile, l'ha detto Salvini, mi è piaciuto che ha fatto autocritica, non è possibile che le elezioni delle cinque grandi città si sono da cinque anni. Dovevamo farci trovare preparato e mettere in campo lì una classe dirigente, è sembrato di essere X Factor, in particolare per le candidature di Napoli, Milano e delle grandi città, e abbiamo deciso solo a un mese prima delle elezioni. E questo lo paghi poi alla fine, nonostante io credo che la credibilità della proposta politica del centro-est sia importante. Ultima osservazione, lo dico per tutti noi, il successo di un politico in Calabria è l'idea che il problema non è né il politico né il civico, ma il problema di una candidatura, come ha detto Berlusconi, che sia seria e credibile. Comunque il centro-destra, senza una proposta moderata e senza persone credibili, non va da nessuna parte, anche se nei sondaggi poi ha la maggioranza degli elettori. E questa è una responsabilità di tutti. Un attimo, un attimo, un attimo, Carmelo, Carmelo, un attimo solo.